Ciao a tutti ragazzi, io sono Giuseppe e oggi siamo in un nuovo video. Oggi non faremo nulla, chiuderemo i video subito, ma domani giocheremo o a Fortnite o a GTA V finito, o a Jurassic World Evolution o Metal Gear. Scegliete voi nei commenti, scrivete hashtag Fortnite, hashtag Jurassic World Evolution, hashtag Metal Gear e hashtag Rocket League. Me lo scarico di nuovo, ho capito ragazzi? E adesso concludiamo con un bel saluto. Ciao a tutti ragazzi!